ciao buongiorno sono vivo il tuo video bene e tu chi sei giovanni da dove vieni anche te da parma siciliano viveva a parma hai deciso che tu dal nord vai al sud ha capito tutti i vostri sono a augustio quali i problemi basta stare bene con se stessi a Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti È morto, è morto Ancora hai portato a casa la pelle dai Non hai un problema Prima che disposi ti passano Attento al gancio Saluta il capo, va là Grazie mille, è stato bellissimo Giovanni, bravo Complimenti Giovanni Vai così Sì Sì Grazie a tutti